auguri a tutte le donne da parte mia e da Nina ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornate sul mio canale io sono sempre darkgreave oggi devo fare un video dedica per due motivi il primo la festa della donna dedicato a tutte le ragazze e donne che guarderanno questo video ovviamente questo video è per voi e il secondo ma non meno importante del mio amico amicicio tutte le cose del mondo Nicola questo video è dedicato a te è il suo compleanno oggi auguri Nicola allora oggi sarà un video speciale perché sarà incentrato su Tekken la modalità speciale dei funghi essendo che è speciale la farò con una persona speciale vi dico subito che questa modalità non è possibile andare online e quindi giocherò con una persona al mio fianco che vi mostrerò solo durante il combattimento capirete il perché dopo allora iniziamo ahah bene bene hai scelto Nina eh bravo bravo ma vediamo se sai giocare in questa modalità eh 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 dai Brian fagli vedere a questo ok io però io, io c'ho una putt'a me dentro io oh che c'è da come si gioca? è colui che si gioca sono più grande fai fermo Ma che vuoi fare? Fai il bravo, su! Non ci arrivo. Sono troppo grande? Ritorno picco. Oh! Oh! Dai fero! Oh! No! Che vuoi fare sta mo... Hai avuto solo Kugo. Ora rifacciamo. No no scusate devo rifare perchè non ci credo. Oh! Guarda che prima hai avuto Kugo. Non mi incazzo. La porca troia! Stai fermo! Sì so grosso ma non lo piglio! Allora che cacchio serve essere più grandi? Sì! Ho preso la stella! Sì che so... No! No 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 no! 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 L'ultima! Ti devasto! Ti devasto! Se vinci ora mi incazzo! Ho preso! Vabbè! 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 Uff! Perché? Vi prego devi vincere Mario! Sei un po' obeso all'ultimo momento però vabbè! Sì! 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 Ricorda che con questo ho battuto Froxie eh! Vai calmo! Sì! Sì! Che bello che sei! Sì! Sì! Ma lasciami stare! Sono un po' che io! Non ti apro ora! Ah! Non sei così tanto! Ah! Ah! E vai! Almeno una vincita! Sì! Vuoi la rivincita? Vabbè! Facciamo la rivincita! Si arriva a tre ragazzi! Ah! Proprio una cosa tra parenti! Mi piace! Mi piace! Hai steal! Hai steal! Sai come perdere! Oretto su! Omerore di più! Che fanno questi fuggi? Eh! Ci va bene! Lei figlia quello di Gara! Eeeee! Ma che cazzo! Nooo! Ah no! Hai vinto per culo! Hai vinto per culo! Ma mi incazzo! Ma mi incazzo! Ma mi incazzo! No! Non basta! Basta! Non gioco più! Basta! Ma che cazzo! Affanculo! Bene ragazzi! Ovviamente! Avete capito che stiamo scherzando! Non è stato maltrattato Kiko! Ve lo assicuro! Perché quel cane! Nell'arco di tutto l'anno! Dorme perenemente sul mio divano! Quindi! Tranquilli! Che non fa la vita da cane! Sia chiaro! E soprattutto è stato lui a dirmi! Voglio sfidarti! Per il tuo amico Nicola! Va bene! L'ho detto! Accetto la sfida! Però ha vinto lui! No beh! No scherzi a parte! Spero che il video vi sia piaciuto! Rifaccio gli auguri a tutte le donne! E al mio amico Nicola! E noi ci rivediamo come sempre al prossimo video! Ciao ragazzi e ragazze!